e tu c'hai davanti e non lo scuola si ma questo è stanza di raffa ma si ma guarda è che non dovevi farlo vedere su una madre perché erano anche in un'altra ho capito anche la si finisce un po' ma adesso si rippa le carote io prendo la cucciola io provo portaci questa zona dove c'è anche il crocodagli e i remoli che adesso c'è questo giro perché sicuramente qua c'è il giro bello prima prima non ci studiamo no 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 ci studiamo oh ok c'è anche la cosa che non ci proviamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.